io non lo so da dove vi viene cosa pensate in quel momento cosa vi può passare per la testa in quel momento io non lo so ragazzi perché poi per colpa di queste cose che vengono sbattute in prima pagina si fa di tutta l'erba un fascio e se uno ha il diritto perché uno ha il diritto di criticare la prestazione di un calciatore che in quel momento veste la maglia della sua squadra su cui ci investe soldi sentimenti, tempo, quello che volete voi il tifoso ha il diritto di poter criticare il calciatore la prestazione del calciatore tutto questo va a finire a sfacello quando poi alla fine si vede che la critica va a finire sul personale va sul razzismo perché siete stupidi in culo siete proprio stupidi ma come cazzo vi viene in mente cioè voi fate perdere una battaglia intera a tante persone che stanno lì a lottare per lo spirito critico che si deve avere perché chi non ha uno spirito critico non andrà mai avanti chi dice sempre sì sì va tutto bene va tutto bene o è pagato o è uno zerbino nella vita gli piace proprio essere zerbino stare lì a dire sempre sì 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 oppure è pagato è giusto così perché se uno è pagato va bene così però il resto ha il diritto di criticare e in questo momento Rafa Leao è un calciatore che il tifoso del Mina può permettersi di criticare perché non sta dando quello che è in grado di dare ma se poi Leao ha ripostato la storia di un minchione di un minchione perché sei un minchione fattelo dire da tutta Italia e da tutto il mondo perché sei un minchione che scrive ah non riesco più a vederti in campo e già questo dovrebbe dire tutto non riesci a vedere in campo Leao tu immagina di un mila senza Leao il Leao già più svogliato del mondo che prende quattro in pagella è comunque l'unico che ti dà una piccola speranza lì in avanti senza Leao è inutile anche guardare la partita ma va bene non riesco più a guardare Leao mi fai salire il razzismo una roba del genere cioè capisci che da una critica giusta che puoi fare passi totalmente dalla parte del torto perché sei un minchione perché non ha senso tutto ciò perché bisogna parlare di queste cose perché perché spiegamelo come pensi di poter passare dalla parte della ragione quando parli di razzismo e cose varie quando il tifoso del Milan poche settimane fa si è indignato si è scandalizzato per quello che è successo a Magnanna Udine e tu probabilmente sarai stato uno di quelli sarai stato uno di quelli che si è scandalizzato perché i tifosi rudinesi hanno fatto quella barbaria contro il nostro portiere e tu cosa fai? attacchi un nostro calciatore proprio su quell'argomento e che cazzo ragazzi ragazzi dovete imparare anche a saper criticare ve lo dice Uro che in passato magari ha sbagliato andando sul personale dei calciatori andando a insultarli sul personale che è una roba sbagliata bisogna criticare la prestazione del calciatore e poi voglio aprire una piccola parentesi su ciao perché adesso ciao è diventato scarso ciao è una merda no ciao ha sbagliato completamente una partita in cui non era pronto e il modo di difendere del Milan porta sempre i difensori centrali a questo rischio perché Romagnoli era scarso e poi è andato alla Lazio e è diventato un signor difensore Tomori è scarso scarsissimo una merda Kier è scarso Calulo è scarso Ciao è scarso ma come cazzo è che poi gli altri prendono gli acerbi e diventano fenomeni ma forse c'è un problema di fondo su chi li allena e come li fa difendere forse il fatto di difendere a 70 metri dalla porta può essere un problema forse se un giocatore dell'Inter fa un errore e c'ha dietro il compagno che lo aiuta forse la sua prestazione non sembra così scandalosa forse se Ciao sbaglia un intervento perché lo buca magari dietro potrebbe esserci qualcuno oppure Ciao deve andare a saltare a centrocampo poi deve tornare indietro e perdere lucidità con questo non sto giustificando la prestazione di Ciao contro il Monza che gli ho dato zero spaccato ha fatto una partita di merda ma ragazzi il calciatore non è scarso cioè ci sono tanti attenuanti bisogna anche pensare perché questi una partita sembrano dei fenomeni assurdi e la partita dopo mi sembrano dei rincoglioniti trovati lì per caso anche questo bisogna ragionare perché poi lego ma Ciao è scarso ma Ciao è sopravvalutato avete sopravvalutato Ciao questo era il grande campione ma io lo penso ancora che Ciao possa diventare un grande campione non è che cambio idea così con lo schiocco di dita posso criticare la prestazione ma il giocatore per me rimane validissimo validissimo e io sono convinto che Ciao molti di voi torneranno a chiedergli scusa perché ritornerà a fare delle grandi prestazioni ma il problema principale è come difende il Mina Di Pioli con sempre questi difensori che devono correre per tutto il campo andando a fare marcature assurde e se stai bene fisicamente e se ti va tutto bene fai il partitone della vita ma se non ti va bene e basta mezzo errore e già sei fuori già hai fatto un errore il difensore ha un ruolo difficilissimo quindi punto primo quando dovete criticare un giocatore non andate su roba di razzismo e cose varie perché fate una figura di merda passate dalla parte del torto si perde anche la possibilità di poter criticare un giocatore perché poi si dice si fa tutta l'erba un fasto e si dice guarda quello pure il loro giocatore stesso insultano no io sto criticando non sto insultando sto insultando magari quella prestazione in campo sto insultando il fatto che non si impegni che non dia il 100% è un mio diritto farlo ma non fate quell'errore di andare sul personale sulla razza su quello no perché siete dei minchioni e seconda cosa quando dovete giudicare un giocatore non potete passare da campione a scarso nell'arco di una partita perché ciao prima che si infortunasse era un campione tutti lo stavamo aspettando adesso dopo una partita di merda con tutto il mondo era merda è scarso no no non è scarso non è scarso cercate di capire cosa c'è dietro una prestazione negativa di un calciatore quindi detto questo ragazzi bisogna essere ve lo dice uno che è sempre poco equilibrato nei giudizi ma dovete essere un po' più equilibrati perché non si può passare da ciao è fortissimo ciao è la merda ciao ha fatto una partita con il Monza da zero ma il giocatore non va messo in discussione come Leao gioca svogliato fa delle partite di merda ma il giocatore non può essere scarso non può essere sopravvalutato è forte che poi non ci metta il 100% lo notiamo un po' tutti parliamo un po' della partita di domani che dire vietato sbagliare sarebbe proprio il minimo cioè no no ma non esiste proprio cioè già stiamo passando una stagione di merda ne parlavo proprio stamattina della mancanza di stimoli nel Milan cioè io guardo il Milan ormai solo per la maglia ma non me ne frega niente a me guardare la classifica il Monza se lo battevi superavi la Juve non me ne frega niente tanto ormai tra le prime quattro ci arriverai a meno che non le perdi tutte sarebbe clamoroso anche quello ma non credo possa mai succedere facciamo le corde comunque a prescindere però il campionato è poco stimolante l'Europa League è diventato l'obiettivo ma con questo non devo andare a fare le figure di merda perché mi è stato scritto anche questo e tu dici che dobbiamo puntare sull'Europa League poi però se fa turnover in campionato ti lamenti ma porca puttana ma il turnover va fatto in una certa maniera non puoi mettere tre attaccanti che non giocano mai insieme non puoi cambiare tutto e poi andare nell'intervista e dire no quello non se la sentiva di giocare no quello ha preso una botta no quello aveva la diarrea no quello aveva litigato con la moglie per non prenderti le responsabilità perché questo turnover non è forse il primo errore la prima volta che sbaglia un turnover vabbè glielo concediamo a sto Cristiano no ne ha sbagliati 8777 di turnover e ne ha fatto 8777 quindi ne ha sbagliati sempre non ha mai azzeccato una partita col turnover perché il turnover non si fa in quella maniera il turnover o si mette nei titolari e quando si sta vincendo si iniziano a togliere piano piano o si toglie uno due titolari al massimo non cambiare la squadra non vedere tutte le cose diverse ciao boom buttato non era pronto palese attacco tutti e tre non titolari così a caso c'è capito se metti ciucuese non puoi mettere anche ocafor o metti uno metti l'altro non giocano mai poi giocano insieme Kojovic non hanno mai giocato non si intendono non si conoscono neanche come fanno a giocare insieme quello è il turnover sbagliato la formazione di domani dovrebbe essere quella sulla carta la migliore Magnan Florenzi Chia Gabbia Teo Adli Reinders Pulisic Loftucic Leao e Giroud se non sbaglio è la formazione dell'andata non vorrei dire una minchiata però dovrebbe essere la formazione dell'andata che è quella che ci garantisce un po' più di tranquillità ora io non voglio dire nulla perché non voglio dire nulla però se domani vedo qualcosa che non va e allora lì mi incazzo davvero perché tu hai preso e buttato nel cesso l'ennesima partita di campionato per una trasferta a Ren con tutto il rispetto per Ren abbiamo visto che è una squadra mediocre mediocre hai vinto 3-0 all'andata quindi tu hai buttato completamente Monza completamente a caso cercate almeno di farci vivere una serata serena perché io non non voglio neanche mettere in dubbio la qualificazione ma non voglio dovermela soffrire non voglio che parte male che devo stare tutta la avete sacrificato Monza almeno regalateci una serata serena domani ci vediamo domani con il post partita sempre forza mina bella non voglio neanche non voglio neanche